Oggi parliamo dei maelstrom, ovvero dei vortici d'acqua che attraggono tutto verso il loro interno, in modo analogo ai gorghi. I maelstrom si formano principalmente in alcune zone dei mari dell'emisfero boreale e sono causati da forti correnti di marea che trovandosi davanti a delle costrizioni geologiche non riescono a fluire agevolmente. Degli esempi possono essere delle improvvise depressioni dei fondali, ovvero un grande dislivello del fondo del corso d'acqua che prendiamo in considerazione. Dopodiché troviamo le sporgenze rocciose e la presenza di un canale o di uno stretto, ovvero una diminuzione considerevole dello spazio dentro il quale può passare un determinato corso d'acqua. Le caratteristiche principali dei maelstrom sono le correnti rapide e vorticose e le onde di forte intensità che risucchiano verso il centro del maelstrom tutto ciò che entra nel suo raggio d'azione. Quali sono i principali maelstrom conosciuti? Partiamo dalla Scozia, dove troviamo il Curie Wreckan, situato fra le isole Jura e Scarba. Spostandoci verso est troviamo Naruto, situato fra Naruto e l'isola Waji, in Giappone. È uno dei maelstrom più facilmente osservabili data la sua posizione sotto il ponte che collega Naruto all'isola di Waji. Se ci spostiamo ancora un po' ad est o facciamo il giro lungo passando per ovest, arriviamo in Canada e più in particolare fra Passamacuo di Bai e la Baia di Fundi, dove troviamo l'Old Soho. Sempre in Canada, in corrispondenza delle rapide delle seashells, è presente lo Skukumchak Narrows. E infine approdiamo in Norvegia, dove fra l'isola di Moskene Soja e la piccola isola di Moskene troviamo il Mukstraumen. E per concludere, sempre in Norvegia, troviamo il maelstrom più forte del mondo. Stiamo parlando del Solstraumen. Situato poco fuori della città di Bodo, è composto da 400 milioni di metri cubici d'acqua ed è considerato uno dei fenomeni più affascinanti al mondo. E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti e se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale per non perderti nessuno dei prossimi video.